Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che sarà un po' più soft, leggero del solito perché per oggi lasciamo da parte le nuove moto che hanno mostrato l'Ecuma poi tornerò domani con quei video, con una moto, secondo me, interessantissima ma abbastanza sottovalutata durante la fiera per parlare oggi di design quindi ragazzi, almeno per oggi non vi parlerò di numeri non vi parlerò di schiere tecniche, non vi parlerò di prezzi non vi parlerò di ciclistiche, ma parliamo semplicemente di design, di estetica, di bellezza perché parliamo della moto più bella del salone dell'Ecuma 2019 quella che ha vinto questo concorso che sapete si tiene ogni anno da parte di una rivista che va a prendere i voti ricevuti dagli utenti online insieme a quelli ricevuti in fiera per stilare una classifica delle top 10 moto ovviamente in cima a questa classifica c'è la regina, la moto più bella del salone è una classifica questa che aspetto sempre ogni anno perché per me il lato del design, il fattore del design, penso che lo avrete capito ormai è fondamentale su una moto, cioè per me non ci sono solo i numeri ma una moto deve essere anche bella è una cosa secondo me importantissima e quindi io aspetto sempre questa classifica sono sempre molto curioso di paragonare i miei gusti e vedere un po' quali sono quelli più comuni, quelle delle altre persone e anche quest'anno i miei gusti sono abbastanza diversi dagli altri ma ovviamente ragazzi in questo video non ci sono cose giuste, cose sbagliate ci sono semplicemente a me piace una cosa, a te piace un'altra quindi ragazzi se a voi le moto di quali vi parlerò poi perché farò una mia classifica non vi piacciono ovviamente ragazzi lo posso capire benissimo perché io ho dei gusti anche abbastanza particolari comunque parliamo di questa classifica, queste top 10 moto in questo video vi parlo delle top 5 moto le altre 5 lascio stare, parliamo solo delle prime 5 sono delle moto di fatto secondo me abbastanza la prima almeno scontata di fatto si sapeva che avrebbe vinto quella perché vince sempre un italiano ma comunque secondo me in queste classifiche la gente non tiene conto solo della bellezza del lato estetico ma tiene conto anche del marchio, tiene conto delle schede tecniche quindi di fatto sono classifiche un po' falsate non è concorso d'eleganza di Villa d'Est però ragazzi dicevo primo posto c'è una moto scontata sapevo già che avrebbe vinto quella le altre sono moto che mi lasciano qualche perplessità onestamente sulla veriticità di questo concorso ho sempre avuto qualche dubbio perché a volte vedi veramente vincere di quelle moto che dici ma come è possibile come nel lontano 2014 quando ha vinto la Ducati Scrambler quando era in gara mi sembra un'apriglia supersportiva l'RS V4 non mi ricordo forse c'era un MV che era una cosa da vedere spaziale oppure ha vinto la Scrambler non si è mai capito come mi ha fatto a vincere la Scrambler ma ha vinto la Scrambler e anche in questo caso anche quest'anno in questa classifica ci sono alcune moto che mi lasciano un po' perplesso partiamo dicevo dalla prima quindi la moto regina del salone quest'anno dell'ECMA indovinate un po' qual è, quale potrà mai essere è la Ducati Street Fighter V4 quindi la nuova Super Naked di casa Ducati che effettivamente ragazzi è molto bella anche se io ve l'ho detto di fatto in Ducati hanno fatto la cosa più semplice che potessero fare ovvero scarenare la Panigale V4 metterci il sistema di lettera dinamica in configurazione biplano che è molto bello e di fatto è nata questa moto quindi io non la considero la moto più bella secondo me ci sono altre moto più interessanti comunque ragazzi è una moto molto bella per quanto mi riguarda che non mi piace tanto infatti poi in questo video vi parlerò della mia classifica personale che non mi piace tanto è la parte dello scarico cioè lo scarico secondo me rovina un po' tutta l'estetica è vero che si può cambiare però parliamo della moto così come è presentata quindi così come è presentata diciamo che la parte dello scarico non mi piace poi al secondo posto l'Aprilia con la sportiva RS660 effettivamente ragazzi è una moto molto bella però c'era anche già l'anno scorso la versione c'era già la concept quindi di fatto Aprilia ha semplicemente perfezionato qualche particolare e quindi ci sta abbastanza scontato che ci fosse questa moto almeno nelle prime top 5 va bene così quindi secondo posto l'RS660 al terzo posto la super veloce 800 dell'MV Augusta di fatto l'unica MV che è rientrata nella classifica delle top 10 moto più belle dell'ECMA e onestamente penso che c'erano altre moto molto più interessanti rispetto a quelle che poi vi parlerò più avanti dicevo la super veloce 800 moto molto particolare in tutti i sondaggi che ho sempre fatto su Instagram eccetera non nessuno è mai piaciuta perché effettivamente è molto particolare è una linea molto retro però ricordiamoci che è una moto che ha vinto insieme alla Ducati per Motad di concorso di eleganza a viglia a testa del 2019 quindi l'ha fatto diciamo che è universamente riconosciuta è una moto bella in questo caso terzo posto al quarto posto invece c'è la nuova c'è la giapponese la nuova Honda CBR1000RR-R3R Fireblade che dire secondo me l'hanno votata più per i numeri perché sapete potenza 27 cavalli potenza inedita però di fatto a livello del design secondo me c'erano molto più interessanti è vero che il nuovo frontale è molto aggressivo molto cattivo però oddio da lì a metterla nei primi top 5 moto più belle dell'ECMA con tutte quelle che c'erano comunque quarto posto per lei quinto posto una moto che veramente non mi sarei mai aspettato visto che l'avrei messa tra le ultime posizioni non si sa bene come sia arrivata al quinto posto la Moto Guzzi V85TT Travel onestamente vi dico boh è un enduro stradale io l'ho provata anche la V85TT l'ho provata quest'anno avete visto la mia prova sul canale c'è comunque la mia prova nella playlist prove moto su youtube però di fatto a livello estetico è una moto che mi lascia molto molto perplesso soprattutto è bella la colorazione quella rossa misto bianca che però costa anche di più ma le versioni normali di colorazione sono abbastanza brutte da vedere soprattutto la blu e la Travel vista dal vivo non mi sembra assolutamente niente di che mettere nelle prime top 5 come quinta moto questa Travel questa Moto Guzzi quando c'erano moto del livello del mezzo Augusta brutale 1000RR la Rush 1000 eccetera eccetera onestamente boh mi lascia un po' perplesso però ragazzi il pubblico ha votato così si pensa che sia pubblico perché non voglio andare a pensare male che c'è qualche altro magagno dietro però se pensiamo che tutto è in ordine tutto a posto ragazzi il pubblico ha votato come quinta moto più bella del salone la Moto Guzzi V85TT Travel c'è una cosa che mi dà fastidio ragazzi questa classifica manca la moto più bella del salone la Suzuki Katana Yoshimura Edition come hanno fatto a non metterla cioè ma ragazzi ma hanno preso hanno fatto una colorazione un po' diversa hanno messo a scarico Yoshimura ma la moto è bellissima ragazzi a parte di scherzi perché la Katana è un incubo qui di fianco le 3 mia prova che ho fatto cosa è stato quest'estate è veramente dei veri design è bruttissimo secondo me si vergogna anche chi l'ha disegnata probabilmente ha cambiato lavoro ha cambiato vita ha detto che nella vita ha fallito perché di fatto è una moto veramente bruttissima ogni volta che la guardi la Katana da qualsiasi punto che la guardi ti dici ma Suzuki cosa hai fatto ho venuto Suzuki parlando un attimo di Suzuki ragazzi ma anche quest'anno ho riproposto una moto in stile retro che è la nuova Vistrom ma voglio dire onestamente è un design molto particolare che ovviamente non riscontrano il parere favorevole della gran parte della gente infatti è una moto che non è piaciuta quasi a nessuno non capisco Suzuki cosa stia facendo cioè prima con la Katana l'anno scorso quest'anno ho portato una sola moto questa Vistromo comunque niente ragazzi Suzuki neanche quest'anno si può aggiudicare il primo posto in questa classifica e adesso comunque ragazzi parliamo della mia classifica di quelle che sono le mie 5 moto ovviamente ve lo dicevo è tutto opinionabile nel senso qua parliamo di design parliamo di senso estetico ma mi piace una cosa a te non piace quindi ci sta che i gusti sono gusti lo sapete e quindi qua sotto vi lascio anche alcuni sondaggi che ho fatto stamattina le quali ho messo a confronto alcune moto che io reputo le più interessanti che c'erano l'Ecma vedete quindi quelli che sono i risultati dei sondaggi di voi comunque dei follower che ci sono sulla pagina Instagram dunque la mia classifica parla di moto molto più di nicchia sapete che io sono vabbè amo il design e amo il design molto particolare quello ricercati quelle moto classiche che devi fermarti magari 10 minuti a cogliere ogni particolare per capirne la bellezza e per capirne il lavoro dietro da parte di chi l'ha disegnata e quindi di fatto a primo posto ragazzi senza tirare la moto per le lunghe io ci metto la e mi vi augusta la la brutale 1000 RR perché di fatto è una moto semplicemente spaziale fantastica più particolare ovviamente rispetto a una street fighter se così vogliamo dire però ragazzi a guardare il faro come è fatto full head a guardare il codino in ogni punto che la guardi quella moto è veramente un'estasi per quanto riguarda le forme si traspare veramente l'amore delle mie vi augusta per il design delle moto e ragazzi è per questo che le mie vi costano tanto perché sono moto soprattutto che vanno in mano a gente che le colleziona cioè una moto come la Rush 1000 una moto come la brutale 1000 RR è una moto costosa una moto come l'F4 con i Castiglioni sono moto che vanno nei salotti degli sceicchi perché sono effettivamente molto belli qua parliamo di bellezza non parliamo di affidabilità perché lì andremo su altri discorsi eccetera eccetera quindi parliamo solo di bellezza ragazzi la moto è bellissima quindi primo posto ci metto quella al secondo posto l'Aston Martin AMB 001 questa ragazzi è una moto assolutamente di nicchia è una moto che mi rendo conto al 99% della gente sulla faccia della terra non piace però a me veramente quando l'ho vista mi ha fatto venire la pelle d'oca perché sembrano di quelle moto concept che girano su internet sapete quando magari esce il concept di una moto che poi arriverà tra tre anni hanno sempre questi design molto particolari e questa moto mi ha ricordato veramente uno di quei concept che si trovano online che poi di fatto non arriveranno mai nei concessionari è una moto che ha delle forme molto particolari però ha una colorazione ha uno stile tutto suo e è una moto semplicemente pazzesca mi sono fermato penso 20 minuti a guardarla l'ho fotografata in ogni posizione è bellissima l'accostamento di colori è bellissimo la parte del sellino insomma ragazzi è una moto bellissima a me piace e quindi ce la metto in seconda posizione questa MB 001 è una moto della quale vi parlerò poi nel video di domani dove vi dirò effettivamente schiera tecnica come è fatta eccetera eccetera ovviamente già per anticipo è una moto stracostosa quindi super di nicchie sarà per qualche scelicco e in edizione limitata poi al terzo posto cosa ci mettiamo ci mettiamo la Street Fighter V4 perché effettivamente non è una moto che io metterei a primo posto ve l'ho detto perché mi piace lo scarico perché penso che i designer potevano fare un casino in più che non semplicemente scarinare la Panigale V4 però di fatto è una moto molto bella quindi le metto al terzo posto al quarto posto ci metto la Tuono 660 quindi dell'Aprilia non ci metto le RS perché già l'avevamo vista l'anno scorso come concept perché di fatto le RS diciamo che richiama un po' quello che è l'RS V4 la Tuono hanno fatto il lavoro secondo me pazzesco perché di fatto la Naked assomiglia tantissimo alla sportiva in alcuni diciamo che in alcuni punti da quale guardo questa moto sembra di vedere la sorella RS 660 quindi hanno fatto veramente un lavoro pazzesco la moto è bellissima anche in colorazione è una moto questa qua che vi ricordo essere per patente A2 di fatto chi si comprerà questa moto si porterà a casa una moto dal design veramente bello anche Aprilia come design non scherza e all'ultimo posto al quinto ci metto la Bimota con la Tesi H2 che vi ricordo essere un progetto nato in collaborazione tra Kawasaki e tra Bimota qua è una moto assolutamente particolare di fatto è una Ninja H2 estremizzata più cattiva più grossa con forno più appuntito e sempre con lo stile Sugomi che non mi è piaciuto di questa moto di fatto è solo lo scarico si può cambiare lo scarico io darei un consiglio alla Bimota di presentarla di serie quando uscirà perché c'è ancora margine per perfezionare il motore quindi di fatto la moto potrebbe cambiare per quando arriverà sul mercato quindi consiglierei di metterci di serie lo scarico che vedete qui di fianco che è la Krapovich messo anche sulla Ninja H2 che a mio parere rende la moto più bella rispetto a quello tutto grosso che ci ha montato sulla Tesi H2 però di fatto è una moto molto bella e quindi ragazzi ci fermiamo perché la mia classifica è questa sono le top 5 moto e se volete magari dirvi anche la vostra qual è la moto che magari vi è piaciuta di più all'ECMA e quali possono essere le vostre 5 moto che vi sono piaciute di più e ovviamente ragazzi non c'è una risposta giusta o una sbagliata tutte le moto possono essere belle o brutte perché variano in base al gusto personale quindi noi ci vediamo poi domani con il video appunto dell'Aston Martin AMB-001 una moto fantastica se questo video vi è piaciuto se questo video vi è piaciuto mi piace iscrivetevi nel nostro canale youtube e con lo instagram il dna del backer ufficiale e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.